E naturalmente è il piatto principale di queste nostre dirette quotidiane, il fatto di collegarci con i luoghi di San Pio e in particolare di stare all'aperto con tante persone che sono lì appunto anche a raccontarci cose molto interessanti come quelle che già abbiamo sentito grazie agli ospiti di Anna Maria. A te di nuovo spero che tu abbia avuto il tempo di salutare Padre Fortunato anche da parte nostra, mia e di tutto lo studio. Fatto, fatto e ha ricambiato. E allora come promesso vogliamo parlarvi degli apostoli di Gesù crocifisso perché si sta svolgendo in questi giorni il quarto capitolo, è un istituto religioso maschile che ha iniziato ad esistere nel decennio degli scorsi anni 70. Il fondatore è Don Domenico Labellarte e c'è un legame molto molto stretto con Padre Pio. Lo stesso Don Domenico lo ha conosciuto, si è confessato da lui, gli ha detto sarai sacerdote. Ma noi ovviamente approfittiamo della presenza di chi ne sa molto molto di più ed è, come già vi ho fatto conoscere, Padre Calisto Pio. Allora, eccoci qua. Quarto capitolo. Perché a San Giovanni Rotondo è una domanda d'obbligo? Perché a San Giovanni Rotondo? Perché Don Domenico Labellarte era il figlio spirituale di Padre Pio per ben 50 anni. Quindi il Padre fondatore Don Domenico Labellarte ha conosciuto da vicino il nostro santo, il suo maestro, Santo Padre Pio. Quindi il Padre fondatore ha imparato da lui come valorizzare il sacrificio, la Santa Messa, il perdono, la confessione e soprattutto la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Quindi Padre Pio per Don Domenico è una guida, un riferimento spirituale e anche una forza ad andare avanti. Quindi da lui arrivava proprio l'incoraggiamento e tanti tanti consigli. Che lo hanno visto insieme? Per quanti anni li hanno visti? Per 50 anni, sì. È stato un contatto stretto proprio perché il Padre fondatore abitava qua. Stava sempre con Padre Pio. È stato anche Padre Pio a riscoprire la sua vocazione sacerdotale. perché Don Domenico stava in crisi della sua consacrazione a Dio non era sicura e poi con l'affermazione del Santo Padre Pio ha confermato che lui ha questa vocazione sacerdotale. E sono belle queste notizie, anche da riscoprire per chi già le conosce. Si sta svolgendo in via telematica anche, quindi non per tutti quelli che sono in presenza. C'è la possibilità di raggiungerli anche a distanza. Questo quarto capitolo, quali sono le tematiche che avete scelto e perché? Le tematiche sono sulla vita fraterna, cioè la vita in comunità. Perché ciascun fratello è un tesoro da conservare, da curare, da cautelare, da stare con loro come un dono, un dono da Dio che crescono nella comunità. Cosa proponete alle giovani vocazioni e comunque qual è il vostro carisma che poi viene fuori sicuramente anche davanti a chi magari fa questa scelta? La nostra carisma è di far conoscere Gesù il Crucifisso, di farlo amare con profondità, anche di far conoscere al popolo, alla Chiesa, alle persone che magari non riescono a scoprire la loro vocazione per arrivare alla santità. Ai giovani è molto importante di dare un po' il tempo, lo spazio di fare il discernimento e noi siamo disponibili ad accompagnarli a questo cammino spirituale verso la vita consacrata. Quindi ci vuole proprio il tempo, il silenzio, la preghiera, la Santa Messa, un'attività approfondita che noi siamo disponibili ad accompagnarli nel futuro. Bello così perché non ci si deve mai sentire soli. Le missioni nel mondo degli apostoli di Gesù Crucifisso, fuori onda mi diceva che ce ne sono tante, sparse in tutto il mondo. Allora abbiamo le nostre missioni fuori Italia, in Polonia, in Cestocova, che si chiama il Montagna del Perdono, che è abbastanza grande, il santuario di Santo Padre Pio, che è stato costruito da un po'. E poi abbiamo la comunità a Bangui, Centro Africa, e poi abbiamo la scuola per i bambini poveri, abbiamo anche il poliambulatorio, e abbiamo l'ospedale e scuola vocazionali in Mukamba, in Congo, per aiutare i poveri. Ecco, e grazie all'aiuto degli italiani che hanno veramente dato tutto, ci hanno dato il cuore, abbiamo trovato la provvedenza che l'Italia ha un cuore grande per aiutare i bisognosi. Mai spegnere i riflettori su queste realtà, noi siamo felici per questo. Padre Calisto, so che ha, perché chi ha mediato questo nostro incontro è Padre Michele Momoli, abbiamo seguito la sua ordinazione sacerdotale, proprio qui a San Giovanni Rotondo qualche anno fa, era insieme a Padre Massimo. Padre Michele mi diceva che ha una passione per la radio e per la televisione, vero? È vero, è vero, adesso mentre stanno facendo il capitolo, sono il cameraman lì a quel capitolo, ho lasciato la camera accesa e adesso fra un po' questo intervento ritorno alla sede per continuare il mio compito. Noi ne approfitteremo la prossima volta che torna a San Giovanni Rotondo anche per averla ospite, Padre Calisto. Intanto grazie, grazie. Un giovane che adesso è collegato e si innamora degli apostoli di Gesù Crucifisso. A chi si deve rivolgere per essere seguito, guidato? Abbiamo la nostra comunità a Valenzano che possono contattarci, abbiamo il sito Facebook tramite Padre Michele e Padre Gerardo. I giovani che possono contattarci siete liberi a dare questa disponibilità vostra, anche la nostra, con la grazia di Dio e con il tempo e lo spazio. E la preghiera. Grazie Padre Calisto. Maria Pia, tu hai domande? Noi abbiamo concluso, lo lasceremo andare alla camera, alla telecamera, perché l'ha lasciata accesa lì. Certo, mi dispiace se proprio non c'è neppure qualche secondo. Era semplicemente per capire quel bellissimo colore bianco a cosa è dovuto. C'è un motivo particolare perché questo abito è bianco? Allora, abito particolare, il nero, noi indossiamo qua in Italia perché non siamo in missione. Abito bianco è il segno della nostra missione fuori Italia, quindi un simbolo della nostra consacrazione, il simbolo dell'essere missionari. Grazie, molto importante. Soddisfatta, molto solare e poi d'estate insomma il bianco va bene. Molto bello, molto importante perché appunto noi avevamo notato sempre il colore nero e poi questo riferimento ai padri bianchi dell'Africa mi dà modo anche di ritornare a Cartagine, di ritornare a Santa Monica. Grazie Anna Maria, grazie davvero a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie a te e a tutti i tuoi ospiti.